Bella raga, oggi parliamo di Sanua, un DPS sempre vero e utilizzabile nella maggior parte dei nostri team che aiuta sia a coprire una gran parte dei danni, grazie al suo relativamente facile da applicare burst damage che abbaffare alcuni personaggi grazie alla sua outro skill, aumentando del 38% il danno degli attacchi base del prossimo personaggio che entra in campo. Come altri moltiplicatori derivanti dalle outro, anche quello di Sanua è un tipo Deepen, che mentre corrisponde esattamente al classico damage percentuale, essendo un Deepen rientra nella formula in un moltiplicatore separato, risultando a tutti gli effetti in un aumento rispetto ad un classico damage bonus nelle sub-stat. Fortunatamente, restando in tema outro, la combo di Sanua è studiata perfettamente per generare da 0 a 100 con certo energy se applicata correttamente, quindi iniziamo con le meccaniche base da conoscere per arrivare alla sua rotazione ideale. Sanua genera tre muri di ghiaccio diversi in tre modi diversi, con la sua skill, con la sua ultimate e con la sua intro. Questi muri possono essere fatti esplodere grazie al suo forte circuit. Con l'attacco caricato, fermando il puntatore nella zona evidenziata, Sanua fa un attacco caricato speciale, che fa esplodere ogni singolo muro di ghiaccio evocato. Ovviamente ogni muro di ghiaccio fatto esplodere in questo modo fa dei danni extra dopo l'attacco caricato di Sanua, ma la cosa più importante è che ogni muro che esplode, fatto dalle skill e dalle alti metri Sanua, in questo modo genera 15 di concerto energy, per un totale di 30. Mentre l'attacco caricato in sé ne genera altri 15, per un totale di 45. Ogni personaggio ha un totale di 100 concerto energy e Sanua, solamente tramite la sua combo principale, arriva già fino a 45, ma c'è di più. La ultimate e la skill, quando colpiscono un nemico, generano anche loro in automatico 15 concerto energy l'una, il che ghiaccio porta già a 75. Adesso bisogna solo trovare il modo migliore per completare la nostra combo. La combo di 5 attacchi base completata di Sanua genera 32 concerto energy, il problema è che essendo un'intera combo da 5 è veramente difficile da portare a segno direttamente e dallo stesso tempo è fondamentale, visto che il quinto attacco di questa combo aumenta del 20% il danno d'esplosione dei muri citati prima, oltre che con la sequence node 1 di Sanua ci dà anche 15% crit rate. Fortunatamente c'è un modo di ridurre la quantità di attacchi base e questo attraverso la intro skill. Quando Sanua entra in combattimento tramite la intro skill, la sua combo di attacchi base parte dal terzo attacco e non dal primo, ed intro più terzo quarto quinto attacco base genera 36 concerto energy, il che significa che quando entriamo con Sanua ora faremo esattamente intro, terzo, quarto, quinto attacco base. Abbiamo già tutto quello che ci serve per la nostra rotazione, ma prima di questo è importante che capiate come castare velocemente skill e attacco caricato di Sanua. Normalmente fareste skill di Sanua e finita la skill caricato, in realtà con Sanua puoi iniziare a muovere l'indicatore dell'attacco caricato nello stesso istante in cui castate la skill, quindi fai skill e inizi immediatamente il cast e il caricato tenendo premuto col mouse. Questo velocizza tantissimo la nostra combo che, sapendo tutto questo, ora diventa. Intro skill generiamo il primo muro che dura 8 secondi, combo 3, 4, 5 del nostro attacchi base che ci dà 15% rate e 20% burst sulle esplosioni, ultimate che genera il secondo muro di ghiaccio che dura per 5 secondi, skill più attacco caricato contemporaneamente che genera il terzo muro, più ci dà tutta la concerto energy e il nostro burst damage e a questo punto dovremo già avere la nostra concerto energy al 100% carica. Ovviamente concludiamo la rotazione con il nostro eco attivo, che nella maggior parte dei casi dovrebbe essere l'autopath pet, facendo animation cancer per passare al prossimo PG. Questa è la rotation migliore e più semplice da eseguire di Sanua, oltre che a portare il massimo del suo danno, la porta, se fatta correttamente, ha 100% con certo energy immediatamente. Ora come avete capito questa combo richiede due cose, la intro skill e l'ultimate. Mentre per la intro skill è normale che verrà castata e consiglio di partire con Sanua solamente quando può entrare con la intro, per l'ultimate dopo diversi test, il modo migliore per team che tendono a switchare spesso con Sanua vogliamo circa 120% di energy regen, se giocate con un playstyle un po' più rilassato fate anche 140, in modo da essere sicuri di avere l'ultimate in ogni rotazione. Ricordo che i personaggi non in campo generano il 50% dell'energy regen generata dai personaggi in campo, che scala con l'energy regen di chi la riceve e non di chi la genera. Ora, detto questo, in alcune rotazioni potremmo non avere l'ultimate prima della nostra combo skill più caricato, il che ci farà perdere sicuramente danni, in quel caso semplicemente invertiamo la rotazione e facciamo un extra caricato o dodge in caso ce ne fosse bisogno. Quindi la nostra combo situazionale diventa intro skill, combo 3, 4, 5 dell'attacco base, questa volta facciamo skill più caricato prima dell'ultimate in modo da generare energy per l'ultimate, ultimate più caricato o dodge in caso ce ne fosse bisogno. Ancora una volta abbiamo la concerto 100% carica e facciamo il nostro eco attivo per fare animation cancel e swap al prossimo personaggio. Ora che sappiamo la rotazione, parliamo delle statistiche che cerchiamo su Sanma. Come main stat sull'eco costo 4 vogliamo crit damage se usiamo la emerald of genesis o crit rate con qualsiasi altra arma. Sui costi 3 l'ideale sarebbe doppio glasio, ma usare un glasio, un attacco come main stat non fa perdere veramente troppi danni se usate il set ghiaccio e sui costi 1 utilizziamo attacco percentuale. Come substat la priorità da seguire sarebbe crit rate e crit damage, energy regen fino a 120 o fino a 140 se avrete un gameplay un po' più rilassato, attacco percentuale, basic attack damage, skill damage, ultimate damage. Una nota sull'energy regen è che dovete arrivare a 120 minimo anche compresi arma e set. Quindi se state usando set energy regen ed emerald of genesis siete già arrivati al punto che volete. Per i set Freezing Frost è il migliore per ottimizzare i suoi danni in ogni team con eco attivo autopuppet scout contro i boss dove appena castato fa di base più danni di un singolo lampilumen ed è cancellabile mentre lampilumen myriad in AOE sicuramente ci aiuta di più visto che congela e fa 3 istanze di danno. L'altra opzione valida è il moonlit cloud, il set energy regen con impermanence eron attivo nel caso vogliate concentrare il danno del vostro team su un altro dps e quindi basare sano a più sulla sua outro. Inoltre ci dà 10% energy regen che sicuramente aiuta per i motivi detti prima. In generale entrambi i set vanno bene sempre, gli eco attivi li usiamo sempre in post rotazione prima di swappare o in caso di emergenza possiamo usarli prima a metà rotazione per swap urgenti. Per le armi ovviamente sia per crit che energy la emerald of genesis è la migliore seguita dalla command of conviction, quella che prendiamo dal selettore iniziale 4 stelle e che è una gacha seguita dalla lunar capter che è una gacha o dalla looming gloss che viene dal pass. Ed ecco la differenza in danni tra le 4. Una nota sulle sequence node, come dicevamo prima la S1 è estremamente utile per i nostri danni e rientra a prescindere dalla nostra rotazione dandoci crit rate. La S4 ci aiuta con i cast di ultimate nelle prossime rotazioni generando resonance energy dopo l'ultimate. La S5 fa esplodere i muri che evochiamo a prescindere che facciamo attacco caricato o meno e fa generare con certo energy anche senza l'uso del caricato. Mentre la S6 aumenta l'attacco di tutto il team dopo una detonazione dei muri della skill e dell'ultimate. Insomma ogni singola sequence node di sauna facilita le sue rotazioni, ripara da alcuni errori o mancanze di stat ed aumenta i suoi danni. Ultimi ma non per importanza, priorità dei talenti, dando per scontato che le due skill passive vanno sbloccate. Livelliamo in ordine di importanza, forte circuit, ultimate, skill e attacco base. Ok e questa era la mia guida molto rapida per Sanma, io spero vi sia stata utile. Per fare tutti i calcoli tra armi, rotazioni, concerto energy eccetera abbiamo utilizzato il calcolatore di low priority che è veramente spettacolare, shout out a lui come sempre per l'aiuto e per aver fatto lo strumento. E nulla, io spero vi sia stato utile, se avete un personaggio che volete sapere nel dettaglio scrivetemelo pure a patto che lo usi lo porterò probabilmente. E niente, grazie per aver guardato e grazie come sempre per il supporto. Noi ci vediamo al prossimo video, alla prossima live. Bella! Ciao! 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 Sous-titrage ST' 501